buona giornata certo che è proprio vero che nel fare determinate cose si può sbagliare c'è lo spazio anche di un errore che uno può riconoscere ma proprio perché hai fatto c'è l'errore e forse lo spazio di questo errore diventa anche lo spazio di crescita cioè non è solo un qualche cosa che deve macchiare o un qualche cosa di negativo certo lo è ma il modo con cui guardo quell'errore può cambiare il modo con cui la vita continua e si è chiamato a fare altrettanto in modo diverso allora quanto e come certi errori sono momenti di crescita o perlomeno dei trampolini per compiere un salto di qualità in modo diverso della realtà con cui siamo chiamati a rispondere e nello stesso tempo e a viverla a volte certi errori fanno male ci portiamo anche dietro delle ferite forti è vero però anche attraverso queste ferite possiamo capire e forse comprendere e rispondere alla vita in una maniera differente il signore ti illumini ti benedica buona giornata